Sabato prossimo 11 febbraio sarà possibile acquistare e donare un farmaco da banco nelle farmacie che partecipano alla giornata nazionale di raccolta del farmaco e destinarlo a persone che vivono ai limiti della sussistenza. La giornata è promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus in collaborazione con la Compagnia delle Opere e Opere Sociali. Consiste nella possibilità che tutte le persone hanno sabato 11 febbraio di recarsi nelle farmacie che hanno i manifesti come quello dietro di me e donare un farmaco per le persone indigenti della città. Ogni farmacia avrà un elenco di farmaci particolari abbinata a un ente e nella farmacia si troveranno i volontari di quell'ente che riceveranno direttamente il farmaco che viene donato. Quindi questo dà certezza della destinazione del farmaco. Noi a Torino provincia abbiamo. Le medicine acquistate verranno donate a 45 enti convenzionati del territorio torinese, tra cui Camminare Insieme, Sermig, Gruppo Abele e Centri Caritas. 45 enti convenzionati con noi che vanno dal Sermig alla comunità madia, nei padri camigliani, fino alla Caritas o alla San Vincenzo delle nostre parrocchie. Questo per poter raggiungere tutti i bisogni che ci sono in questo momento, soprattutto nell'inverno, per le persone che non possono acquistare i farmaci che non sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.